Nel Salento è crisi e allarme per gli ulivi seccati dalla Xilella, con gli agricoltori alle prese anche con il maltempo e i roghi che bruciano i campi. Avevamo dei teli, quindi il vento e la grandine ce l'ha spazzati e quindi non ha più protetto l'uva, quindi ci ha danneggiato la grandine e ci ha danneggiato i prodotti. A Ettero c'è un costo di 10 mila euro, su 10-11 mila euro il costo dei teli. Guardate i danni che ha fatto la grandine sull'uva e potete vedere anche nelle strutture del vigneto, guardate ha spezzato i pali di cemento. Ovviamente ci sono anche tutti gli ortaggi che mostrano i segni del passaggio della tromba d'aria. Se adesso più passa il tempo e più c'è una violenza proprio di questi eventi che in pochi minuti ti distrugge il lavoro di anni e anni che un'impresa fa. Il 70% della produzione di uva, ortaggi, meloni e pomodori è devastata dall'ultima ondata di maltempo che ha colpito le regioni del centro-sud. Qui siamo a Ginosa nel Tarantino. La stranezza diciamo di questo evento è stato quello appunto della violenza e della zona estesa che è arrivata addirittura in Basilicata fino a tutto l'arco ionico praticamente. Quindi capite bene, le aziende agricole sono in difficoltà e quindi noi chiediamo che si prendano dei provvedimenti e vengano sostenuti. E poi c'è il dramma del Salento come ha denunciato Italia Olivicola con questi video. Incendi che negli ultimi giorni hanno devastato decine di ettari di uliveteo lasciati in abbandono dopo che sono stati colpiti dalla xylella e divorati ora dalle fiamme.